Ciao a tutti, oggi esco dal piano che avevo in mente di seguire per i video. Lo faccio perché in tanti mi chiedono al lavoro e chi ci segue e i nostri clienti ci chiedono come mai i costi dei trasporti sono così alti, come mai i prezzi dei prodotti importati della Cina sono così alti e cosa sta succedendo in questo momento in Cina. Cercherò di darvi una panoramica e cercherò di essere il più semplice e il più chiaro possibile su questi 3-4 aspetti che stanno creando veramente tante difficoltà. Chi fa questo mestiere è chi si serve di noi importatori. Punto 1, come mai i trasporti sono così alti, i noli sono così alti in questo momento, è molto semplice. La Cina quando il Covid è iniziato ha tenuto delle misure molto molto restrittive per quanto riguarda le libertà ed è stata la prima che è ripartita. La bilancia commerciale ha cominciato a pendere in favore della Cina per quanto riguarda le vendite e nonostante anche prima non fosse allineata, cioè la Cina compra molto meno da noi in Europa e dall'America rispetto a quello che vende. In questi mesi, nell'anno e mezzo che è passato, questa situazione è andata migliorando per la Cina, peggiorando per noi. Cosa succede? Che i container arrivano pieni dalla Cina, arrivano in Europa, in America pieni, ma non riescono ad essere riempiti dalla merce che noi produciamo o che cerchiamo di vendere perché o non ce l'abbiamo o la Cina non ha bisogno. Quindi cosa succede? Che molti container si fermano vuoti da noi e gli spedizionieri e gli armatori non hanno convenienza a spedire la nave non piena o i container vuoti e quindi si fermano per molto tempo i container vuoti prima che possano ripartire. Aumentando il numero dei container richiesti dalla Cina e diminuendo quelli in partenza verso la Cina, il prezzo ovviamente è altissimo. Mentre se voi spediste dall'Europa o dall'Italia verso la Cina, il prezzo sarebbe appunto conveniente. Questo è il motivo per cui i trasporti sono incrementati. C'è anche della speculazione? Sì. I trasportatori, gli spedizionieri e gli armatori hanno avuto abbastanza tempo per rimediare questa situazione? Sì, quindi c'è della speculazione, ma il 70% della situazione è dovuto veramente al fatto che c'è uno scompenso totale rispetto a quello che la Cina produce, rispetto a quello che la Cina acquista. Le materie prime, come mai le materie prime hanno un costo così elevato e sono difficili da trovare? Questa cosa ha a che fare col punto 1, ovvero la Cina, avendo applicato delle misure molto molto restrittive all'inizio della situazione Covid, è ripartita anche per prima ed ha fatto accordi, oltre che essere in possesso di tante terre e materiali ha fatto accordi con Centro America, Sud America, Sud Est Asiatico e altre nazioni, perché può, ha la liquidità e noi non abbiamo questo tipo di pianificazione. Ha fatto accordi con tantissime nazioni. La domanda è riscoppiata quando anche le altre nazioni, gli altri continenti sono ripartiti e quindi non è sufficiente la produzione per far fronte a tutte le richieste che ci sono. Gioco forza, anche le materie prime sono aumentate nei costi. Alcuni prodotti, quali l'acciaio, l'alluminio, hanno avuto incrementi del 150-200%. I trasporti, come dicevamo prima, sono aumentati del 600-700%. La sommatoria di questi fattori ha reso gli acquisti della Cina veramente costosi in questo momento. C'è ancora convenienza? Questa è la grande domanda. Per alcuni prodotti sì, sono prodotti che hanno un alto valore aggiunto, sono prodotti piccoli con grandi quantità. Se si parla di prodotti ingombranti con un basso valore, in quel caso la Cina veramente in questo momento non è più conveniente. L'altra situazione in cui è conveniente comprare della Cina, o più che conveniente si è forzati a comprare dalla Cina, è se delle aziende in Italia, in Europa, in America hanno bisogno di grandi quantità, nessun altro riesce a soddisfare queste richieste. Gioco forza, è possibile acquistare queste grandi quantità solo dalla Cina o dall'estremo oriente. In tutto questo, quindi con questa situazione, come comportarsi? Quali sono i miei suggerimenti? Purtroppo i miei suggerimenti sono quelli di fare magazzino, acquistare, nonostante le condizioni siano perse. Perché? Fino ad ora si è acquistato per il momento del Natale. Ora arriverà il momento del Capodanno cinese. Che vuol dire? Che dal 2 febbraio in poi, la Cina chiuderà per circa un mese. Essendo il Capodanno cinese 2021 il 2 febbraio, le settimane utili sono fino a metà gennaio. Dopodiché la produzione non sarà possibile riavviarla in Cina fino almeno a fine febbraio. Questo cosa vuol dire? Che i nuovi ordini che non riusciranno ad essere prodotti prima di queste date, cominceranno la produzione fine febbraio e prime di marzo. Con ovviamente meno personale, fabbriche non al massimo della potenza, materie prime che saliranno ancora perché c'è tanta domanda dopo il periodo di scarsità causato dal Capodanno cinese. E quindi è bene fare magazzino fino ad almeno aprile o primi di maggio. Ovviamente le cattive notizie non vengono da sole. In questo momento in Cina la produzione si allungherà del meno il 30%. Perché? Perché c'è scarsità di energia per la produzione. Quindi la settimana lavorativa che in Cina era 6-7 giorni, in questo momento si è accorciata a 4-5 giorni che per loro è una condizione non normale, per noi lo sarebbe stata. Questo punto come dicevo vuol dire che si allungheranno tutto di un terzo i tempi produttivi. I nostri contatti in Cina, i nostri fornitori ci stanno dicendo che tutti gli ordini che non verranno passati entro metà o a fine 8 ore rischiano di non essere prodotti e per cui non essere spediti prima del Capodanno cinese. Questo vuol dire che doveste fare ordini a dicembre o a gennaio, la produzione comincerà a fine febbraio, come dicevo prima, con arrivi previsti per maggio, dato l'intasamento delle linee navali eccetera eccetera. Un'altra domanda ci viene spontanea, ma insomma questa Cina perché ha tutti i vantaggi? La Cina ha dei problemi in questo momento o li abbiamo solo noi? Effettivamente anche la Cina ha tanti problemi. Come dicevo, a parte il discorso della minore capacità di energia elettrica rispetto a quello che è necessario, ci sono diversi altri problemi. Uno è quello che, dati i costi di trasporto così alti, tantissime aziende hanno deciso, dopo aver cominciato la produzione, hanno deciso di lasciare la merce ferma nei magazzini. La Cina si trova con tantissime merci ferme in attesa che i clienti, gli importatori, decidano di caricare la merce sulle navi, quindi importare. Moltissime aziende hanno i magazzini colmi di prodotti. Altra cosa è che, non so se sapete, ma all'avvio della produzione la fabbrica vuole almeno un 30-40% come deposito. A fine produzione si dà il saldo, che è il rimanente, quindi il 60-70%. Come dicevo, visto che molti importatori hanno lasciato la merce ferme in magazzino, non hanno ancora pagato il saldo. Quindi le fabbriche si trovano con tantissime merci in magazzino, non spazio per produrre e scarsa liquidità perché la caparra data per iniziare la produzione sicuramente non è sufficiente a coprire i costi della materia, del lavoro, eccetera, eccetera. Quindi anche per la Cina è un momento molto difficile. E il fatto che si allunghano questi tempi produttivi ovviamente aumenterà inevitabile, aumenterà ancora di più i costi. A maggior ragione suggeriamo di fare magazzino quanto prima possibile e fare gli acquisti quanto prima sia possibile. Ultima cosa e poi finisco. E molti chiedono quindi, ma allora perché non tornano le produzioni in Italia, in Europa, in America? Perché non decidiamo di riportare le produzioni nei nostri paesi? È giustissimo. E molte aziende lo faranno, molte. Una percentuale del 2-3% si parla, lo farà. Ma molti non lo faranno. Perché? Pensate a quale saranno i costi di avviamento del personale, di aprire una nuova azienda e di stampi macchinari, eccetera, eccetera. Immaginiamo che grossomodo ci vorranno un anno o due prima di essere pronti per superire alla richiesta. Cosa succede se l'anno prossimo o fra due anni la Cina torna ad essere competitiva come lo era due anni fa? A quel punto tutti gli investimenti fatti non avrebbero più senso. E quindi queste aziende, queste grandi aziende che stanno pensando se fare il reshoring oppure no, se tornare a produrre in Italia, in America, in Europa oppure no, sono alla finestra a pensare, cercare di decidere se farlo o meno e cercare di capire cosa il futuro riserva per loro. La mia opinione è che, passato l'ingorgo di questo capodanno cinese, della riapertura dopo il capodanno cinese, la logistica tornerà a dei prezzi, diciamo, non a livello 2019, ma sicuramente interessanti e la Cina tornerà ad essere conveniente come loro prima, se non di più. Questo è quello che io penso. Ed è tutto per questo video, vi ringrazio, se vi è piaciuto fate like e sottoscrivete e ci vediamo alla prossima. Ciao!